Tiziano Uez, secondo classificato, eccolo, assessore grazie per la sua presenza e se date il premio, consegnate però il premio all'assessore che deve darlo al secondo già dato, già dato, benissimo, allora invece al primo classificato premio a Giorgio Fracalossi presidente della cassa rurale di Trento, allora trofeo cassa rurale di Trento, Pucche di Fiori, Gioiello Berenice, forza confezione pasta colpa e bottiglia Marion Muller-Turgao è quello che conta, è quello che conta, facciamo stappare la bottiglia, facciamo stappare la bottiglia, fare vedere la marca, fare vedere la marca.